Grazie, consigliere Bisogni. La possibilità è un'attenzione da parte di ufficio e da parte del sessorato che condividiamo nel rispetto appunto di queste aree che ricordiamo a me interessano i barchi, a me interessano i boschi perché li ritengo di fondamentale importanza e ricordiamo appunto sono aree protette, rientrano nella rete Natura 2000 e quindi sono tutte aree vincolate. Quindi grazie per la risposta, mi auguro assessore che la regione mantenga viva l'attenzione su questa problematica e sarei grato se quando ci saranno le risultanze delle indagini si potesse diciamo in qualche modo essere messi a conoscenza di questo. Ecco perché ritengo che la regione abbia quanto meno questo compito di vigilare su delle aree che sono estremamente importanti per il nostro territorio e che se fossero valorizzate come dovrebbero e come andrebbero valorizzate potrebbero essere anche fonte di sviluppo e di turismo. Grazie.